Sindaco di Solanieri, Salvatore Bruno Magliocchetti, sicuramente bisogna dire delle cose, delle cose che vengono, delle cose che vengono. Cari concittadini, io credo che questa sera la civiltà del nostro Paese sia arrivata al punto più alto. Per una serie di motivi che io ho il dovere di rappresentare alla mia cittadinanza e come Sindaco e come Senatore della Repubblica Italiana. Come Sindaco inizio con i doverosi ringraziamenti, i ringraziamenti alla benemerita arma dei Carabinieri. E io prego il Signor Maggiore di Francia di rappresentare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del colonnello Musso che ha voluto con molto amore questa bellissima manifestazione di questa sera che non è soltanto un'altissima manifestazione culturale e musicale, ma ribadisco il concetto, è un momento di alta civiltà nazionale. In questa piazza, grazie all'arma dei Carabinieri, poi parlerò dei nostri illustri ospiti, noi ritroviamo l'autentica Italia, l'Italia delle grandi tradizioni, l'Italia del risorgimento italiano, italiano, l'Italia dell'amore per una patria che vuol rimanere una e indivisibile. L'Italia della fede in Dio, dell'amore per la famiglia, dell'ordine, della disciplina, della serietà, della purezza, del buon costume sono i valori di cui la benedetta arma dei Carabinieri è depositaria ed io come sindaco e come senatore della Repubblica e quindi come rappresentante dello Stato proprio qui nel cuore della mia città, io vi ringrazio, vi ringrazio a nome di questa meravigliosa Italia. Come ho fatto giorni fa all'atto del gemellaggio con i nostri amici americani, io desidero conferire una medaglia d'argento che è un'opera d'arte di un orafor umano che rappresenta da una parte il meraviglioso castello Boncompagni di Scogliosi e la Cascata e dall'altra parte lo stemma antico dell'insula Filiorn Petri di Isola dell'Iri. e mi piace che questa medaglia possa essere consegnata al nostro meraviglioso direttore di questa splendida banda dei Carabinieri tramite il signor Maggiore Franca che prego di accomodarsi. Grazie. 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 Grazie.